Chi è incapace di vivere in società, o non ne ha bisogno perché basta a se stesso, deve essere o una bestia o un dio. Buongiorno, buon giovedì e bentornati carissimi qui sul canale del Dottor Sedray. Con questo penultimo episodio dell'avvento filosofico, l'episodio di domani sarà particolare, come l'anno scorso sarà una frase più personale, in un video più approfondito, ma non relativamente alla frase, relativamente un po' a me stesso e a un punto di vista che chiude un po' l'anno e i temi di questo avvento filosofico. Questa frase invece è ovviamente di un grandissimo filosofo, è di Aristotele, tratta dalla politica, e sottolinea come in effetti l'uomo non possa non vivere con l'altro. Il tema di questa settimana era il rapporto io-altri e la vita con gli altri è di fatto la vita umana. Aristotele sottolinea come l'uomo sia animale sociale, proprio all'interno della politica, all'inizio della politica, e in questo passo, in queste parole, sottolinea come se un individuo non è un animale sociale, quindi fa fatica a vivere con gli altri, o addirittura rifiuta la vita con gli altri perché considera di essere sufficiente lui stesso per se stesso, per la vita in se stesso, beh allora quell'uomo non è uomo, perché l'uomo è animale sociale, e se non è uomo, o è una divinità che trascende l'umano verso l'alto, o è una bestia, un animale, qualcosa che non è abbastanza elevato per essere definito uomo. Io spero di non avervi offeso qualora voi crediate di essere sufficienti a voi stessi, o quantomeno di non avere neanche esaltato il vostro ego nel momento in cui voi pensiate di essere delle divinità, ma con queste parole vi auguro comunque una buona giornata e noi ci vediamo domani con l'ultimo speciale episodio di questo avvento filosofico.